I prossimi 23 e 24 settembre a Roma organizzeremo un'importante conferenza nazionale dal titolo Le scienze umane e sociali per il sistema di protezione civile. È un'iniziativa organizzata dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con Fondazione Cima e vuole essere una tappa di un percorso, un percorso che abbiamo già avviato, che affonda le radici lontano perché nella nostra tradizione di protezione civile italiana c'è un ruolo esclusivo importantissimo della comunità scientifica. Una comunità scientifica che vogliamo ancora più larga, a comprendere appunto quelle scienze che hanno nell'insieme degli individui, nelle comunità, il loro punto di attenzione maggiore. Siamo interessati chiaramente al territorio, ai rischi, a quello che succede, agli eventi, ma è molto importante analizzare anche quelle che sono le dinamiche delle comunità. Immaginando di passare anche da un concetto, che è il concetto dell'autoprotezione, ad un concetto invece di cura, cura come rapporti, come relazione tra singoli soggetti e tra quei soggetti e l'ambiente. E questo è ancora più importante in un momento storico in cui le tecnologie corrono velocissime, in cui il cambiamento climatico è qualcosa con cui fare i conti, ma nonostante tutto questo al centro ci sono sempre le persone, le comunità che fanno la differenza. È su di loro che vogliamo concentrare appunto la nostra attenzione. E allora partecipate alla call lanciata qualche giorno fa per presentare abstract di interventi, poster o interventi orali, e dedicata ad esperti, ricercatori, scienziati, autori, che hanno qualcosa da dire su questi temi. La call scade il 20 maggio, quindi affrettatevi. Attraverso la raccolta di ciò che arriverà, costruiremo i panel della conferenza, che sarà un'occasione da non perdere per il sistema di protezione civile.